Ecco siamo a Firenze, qui di fronte abbiamo la stazione di Santa Maria Novella, ecco questa è l'uscita, qui di fronte abbiamo l'hotel Ambassador, un hotel che si trova in posizione proprio di fronte alla stazione, con la fermata Alamanni stazione. Grazie a tutti. Ecco siamo all'ingresso. Questa è la hall dell'hotel. Andiamo verso la breakfast room. Good morning, I'll come just a few minutes later. Grazie. Ecco questo è l'appartamento.